Allora, Eleonora, io farei partire un valserino, prima che farlo partire, da dove si comincia? Dalla musicalità, perché il valser è in tre tempi, lo sai no? Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Già, in fondo, ah ok, bene, allora inizi bene. Lo spazio, lo sai come dirti dancing? Questo è il mio spazio, questo è il tuo spazio. No, le spalle così, e sempre destra, sinistra, un, due, tre, la gamba deve andare dietro. Mi fai una paura? Un, due, tre, no, devi seguire la donna, in questo caso, devi seguire il mio passo girando intorno. Sì, più dolce. Un, due, tre, un, due, tre, continua ad avanzare, devi prendere lo slancio, esatto. Musica! Un, due, tre. Adesso guarda di là. La reverence. Bravissima! Bravo! La reverence. La reverence. Eleonora ha bagnato! Che generosa, che generosa. Grazie. Questa cosa me la metto come fiore all'occhiello, è venuta malissimo. Già sudi però. Sono emozionato. Ma scuola, tu dai per scontato che uno balla con l'abbagnato, cioè. Eh vabbè, non è così facile, però non te la sei che è fatta male. Ho un giramento di testa, mi sento l'imbarazzo. Eleonora ha bagnato. Grazie. Prego Eleonora, grazie per questo momento di generosità. Allora. Grazie.